8 settimane di cassa integrazione in deroga nel 2024 per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del comparto moda. E' questa la notizia particolarmente attesa anche dal Valderno, dove sono numerose le imprese medie e piccole impegnate nell'indotto e che stanno attraversando un periodo di calo di ordinativi importante. Dal Consiglio dei Ministri di lunedì 21 ottobre infatti è arrivato il via libera all'integrazione al reddito dei lavoratori dipendenti di imprese anche artigiane con un numero di addetti pari o inferiore a 15 operanti nel settore tessile dell'abbigliamento e calzaturiero. Come ulteriore misura di sostegno è prevista anche l'integrazione salariale ordinariamente erogata dal datore di lavoro al dipendente poi rimborsata dall'Inps che potrà essere pagata direttamente anche dall'istituto previdenziale nel caso in cui esistano serie documentate difficoltà finanziarie. Il sottosegretario al lavoro d'Urigon infine sarà in Valderno il prossimo lunedì assieme al sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini e l'onorevole Tiziana Nesini per incontrare le associazioni di categoria per aggiornarle sul traguardo raggiunto e ascoltare le necessità degli imprenditori per poter progettare assieme ulteriori aiuti per il 2025.